Allora Stefania ci troviamo al San Biaso, pronti per un amichevole tra il Torino che è Milito Orlando con l'Inter, Minister Natalino, questa bellissima amichevole allo stadio Gianni Renda, pensate un po', guardate che bellissimo stadio, adesso giriamo la telecamera che così ci vediamo noi, eccoci qua, ciao ragazzi, siamo in diretta, Stefano, togli questa inquadratura perché proprio stiamo dormendo, ancora siamo assonnati, eccoci qua, adesso giriamo, eccoci qua, possiamo fare dei saluti già, guarda Nicola Giallo, Girolamo Santo Econo, Marco Marcauto, Marco Marcauto pure, direi tu, diamo i saluti, ecco al fondo al numero uno Orlando che si sta preparando per una bellissima amichevole tra il Torino e l'Inter e possiamo dire che è un derby perché è un derby casalingo nel senso che Milito non è nello stesso stadio, quindi come vedete è maglietta blu l'Inter e maglietta Granata quindi quella del Torino, salutiamo Marco Marcauto, salutiamo tutti, salutiamo Mimmo Procopio e Vincenzo Gregoraggio, amici, eccoci qua, siamo belli, siamo addormentati, è una giornata bellissima ecco, è arrivata pure la nostra amica, siediti, siediti, dovevo salutare, dovevo salutare una mia amica è arrivata Cinzia, si chiama Cinzia Lento, però volevo fare il saluto in tedesco vieni, saluto in tedesco, senti qua, visto che lei è svizzera, proprio tedesca, già Cinzioski Cinzioski, mi è uscito russo, ecco come vedete in forma, non sono quindi orizzontale, diciamo verticale, infatti il Torino in fondo e l'Inter è qui, sarà una bellissima amichevole, vinca il migliore, ci auguriamo noi, chi è questo? Rita Corrone, ciao Rita, allora Cinzia vieni con Corrone, stiamo parlando piano piano perché di solito noi gridiamo, adesso giriamo la telecamera, ci facciamo vedere io e Stefani, eccoci qua, basta, non ti farei vedere più, dai, nasconditi, nasconditi, bellissima prigita, qua c'è Cinzia dove suo figlio gioca nel Torino, nella categoria esordienti, Orlando, se mi spingi spingo anche la telecamera, volete vederla, ve la faccio vedere Cinzia, non vuole farsi vedere, lascia perdere, lascia perdere, allora, di sfondo come vedete le squadre, le compaggine, si dice no? Le compagne? Sì, Ginè, sono al centro, vedete, si stanno incontrando in questa bellissima amichevole, io me la voglio diciamo godere fino alla fine, quindi se tengo la telecamera magari esultando schizzo il cellulare in oro, evitiamo tutto ciò, giriamo la telecamera, perché non te lo compro un altro? Appunto, allora sono le, vabbè è tardi, sì, adesso filmo la diretta, come sono? Le sette, saranno più o meno le sette, aspetta che guardo qui, le sette, quindi sotto il riflettore di questa bellissima lamezia, ecco qua, è quasi pronta la squadra, io vi lascio ragazzi, vi saluto ragazzi, ciao da Stefano Calarico, ciao a tutti, Orlando è lì in fondo, è lì in fondo, vediamo se riesco a zumbare, ecco che zumbo, vediamo un pochino se riusciamo, ecco è iniziata la partita, non si vede tanto bene, comunque è iniziata la partita, ciao ragazzi, ci risentiamo alla prossima, buona serata, ciao